Bianconeri, sulle cente! La Juve è fede, amore e passione. Seguila con lo Juventus Club Lizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Roma, sabato 17 dicembre, ore 20 e 45, 17esima giornata di campionato, viaggio di andata e ritorno più biglietto stadio. Per informazioni Juventus Club Lizzano Bianconera, piazza Matteotti 22 Lizzano. Per contatti telefonici Antonio 348 80 88 803, Cristian 349 68 000 66, Giuseppe 347 04 17 623 e sempre Forza Juve, fino alla fine!